no non no no io buon anno certo e allora errore a una zona solo a me non puoi dire la zona giocano ok ci sono siamo gli offer ci siano punti rialzati vede fino a non si ha nemici rialzati acqua che piccolo errore c'è 5 in letto mi ero dimenticato di dire sono 15 minuti di come un protection all'inizio della partita per 15 minuti nessuno primi 15 minuti di gioco nessuno so parare cos'è così siamo 15 minuti di mortalità ci ritroviamo faccia faccia direttamente sul posto perché solitamente lo utilizziamo per finire di fare il briefing ecco i 15 minuti lì mi ero dimenticato di dirlo ma se lo ci insultiamo ecco i 15 minuti di dirlo ecco i 15 minuti di dirlo ecco i 15 minuti di dirlo user joined your channel diamo calma possiamo portare gli sniper user joined your channel user disconnected from your channel user disconnected from your channel user joined your channel ok ok oui cellula Grazie No, no, lascia la jeep a Viper Così l'apprendimento a squadra. Garfi, il player Io a squadra qua Ok, non c'è Ci siete? Sì sì, io ci sei Sì, Diego Ok, qui dentro non si può entrare dentro le case Mi sa che non potevamo venire qua a conquistarmi, sono incazzati Perché? Dove aspettare per le scemenose, mi sa Penso che Zonk ci ha detto le robe sbagliate Eh, allora torniamo indietro Ah, mi sa che deve stare Finiamo Eh beh, qua la morte non c'è nessuno Non c'è, non c'è Sì, allora torna qui Lasciamo qua, mettiamo qua dentro aliens Truogy bene, grazie Allora, controlla per le entrate E non vado a mappare Lo disp combined No, se si vuole restartare Il veicolo è è l'uartesuk oh che va mio ma ancora un po' di casino per favore vabbè ricordatevi ricordatevi le posizioni oh beh però io non ho il gps user left your channel no ti tollo zano non so perché non riesco a impostare il canale aggiuntivo quindi noi non abbiamo nessuna radio interunzione quindi parliamo tutti su 40 il problema è come facciamo a comunicare se non riesci a impostare la radio affermativo user joined your channel raga un minuto iniziamo a organizzarsi lornix tu vai avanti seguivo da gotti chi è il medico? no scusa ultimo lornix ho un contatto un contatto no no non penso sia ancora scaduto il tempo alla vostra sinistra dietro al vostro edificio direzione 320 due persone questo è un ragazzo vai pronti user left your channel user joined your channel user joined your channel esegui la strada poi verso destra seguire i cinti nantoni va va attenzione che c'erano i contatti dove state andando attenzione io rimango sul 40 e vicino a me rimangono sul 40 come ci fanno a soluzionare con la dm 5 e 6 stessa maniera ok occhio le spalle attenzione 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 india attenzione Quasi preso, ti trovo la... Eccolo qua C'era uno dalla mia parte, dall'altra parte dell'edificio, dove saranno ascolto Dove sei? Sono ferito, penso che sto sanguignando, come cacchio Vieni verso te, vieni verso te Rimani là, rimani là e contro la posizione, ti curo io Lancia un fumogeno, ti cura l'ordic Io sto coprendo dove saranno i primi, sotto la... Sotto il pom... come cazzo si chiama? Sotto la forza Ce n'è una fatiglia Facciamo a Ritriano o andiamo... Manca Ritriano Gessio, Orning Stolenza Questa, qui c'è un morto, davanti Questa, qui c'è un morto Questa, qui c'è un morto Due morti Attenzione probabilmente ci stanno passando dietro dall'ospedale, c'è un cancello aperto Ci sono io, ci sono io sul cancello aperto, sono sparato Ok C'è un morto C'è un morto C'è un morto C'è un morto Lecce C'è un morto C'è un morto Lishaw Lishaw Si Qui c'è un morto Lishaw C'è un morto C'è un morto Lishaw Facciamo il giro Gotti, vieni Dornik su dose Sono dove? Prima dove? Sono da più avanti, sono parallelo a voi Da sinistra vostra delle decisione La levitus? Ok, that's hard to say Everyone's just down, literally everyone I would like, I would like to say that all of us You're lagging after, that makes sense It doesn't make sense anyway To be fair User left your channel I'm British Yeah, I'm so British, got through the Queen Et cetera, et cetera Et cetera, et cetera I'm so... Prima out the window and rush to the town At the beginning of the game The plan didn't hold up The plan was ok, just go there Because they've evacuated it Well, the bomb brush plan worked Makeshift The sniper's still up Who the fuck is it without me and Siren? God dang it We were like, ho ho, we're gonna take PA down, yeah What happened to Safestart? Thank you That's it I've got to go there But how do we get going there?